Buongiorno Cristi e Gettili, siamo a Catania, siamo in una delle viuzze che porta alla Fiera di Catania, un posto meraviglioso dove potete trovare tutto, esattamente di tutto, dalle carni, alla frutta, alla verdura, tutta l'oggettistica varia, qui si appollano le piazze tutte le mattine perché le persone cercano l'occasione, il risparmio, cercano quello che non possono trovare da nessun'altra parte. Noi in effetti qualche acquisto l'abbiamo fatto e salutiamo i nostri amici e tutti quelli che verranno qua a Catania a vedere questa cosa particolare che non si trova, è tutto, ciao!